... Sindaco, eravamo abituati fino a qualche notte fa ad accendere il motorino per attingere l'acqua che ci distribuisce Caltacqua. Da qualche ora a questa parte non è più così, perché lei ha emesso un'ordinanza in cui obbliga la società di gestione a fornire l'acqua soltanto nelle ore di urne. Sì, dalle sette del mattino alle undici di sera, alle ore ventitré. Questo perché è giusto che la notte è fatta per riposare e tra motorini e il pensiero di dover rifornirsi di questo prezioso liquido, molti gelesi hanno passato notte insonne. Questo influisce sulla salute dei miei concittadini, di conseguenza non dobbiamo essere noi ad abituarci ai ritmi di Caltacqua, ma Caltacqua si deve abituare ai ritmi dell'uomo che sono più naturali. La notte è fatta per dormire e non per prendere l'acqua. E Caltacqua ha già risposto alla sua ordinanza? Ma no, io avevo chiesto a Caltacqua di spiegarmi le motivazioni per cui c'erano queste erogazioni un po' strane. Non ho avuto risposta di che ho fatto un'ordinanza ad Imperio ed è tenuta a eseguirla. Ora si dovrà agire rapidamente per adeguarsi all'ordinanza. Comunque sono arrivate anche delle buone notizie. L'ASPA ha confermato che tutto il litorale gelese non dimostra di avere problemi, quindi è tutto balneabile, tranne alcuni punti dove ci sono delle ordinanze specifiche per altri motivi. Però il mare di Gela risulta tutto bolito per le 22 km di costa. E quali sono i punti in cui non è balneabile? Ma sono normalmente vicino alle foci dei fiumi dove ci sono dei depuratori a monte, proprio per una questione di tutela per evitare che ci possano essere degli sversamenti non controllati. Ma sostanzialmente sono dei limiti a livello precauzionale, ma non perché vi sono degli inquinamenti irreali. A riaprire da subito i cantieri dell'autostrada Gela, Ragusa, Siracusa, riprendendo i lavori si darebbe uno sbocco occupazionale non indifferente al settore edile del luogo. E non solo. Petizione popolare in piazza Umberto I da parte della sezione di Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale. Raccolte 500 firme. Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale ha deciso di fare questa petizione popolare, una raccolta di firme, chiamiamola petizione popolare, da inviare a chi di competenze nelle sedi opportune per chiedere vivamente che qualche cantiere della famosa costruenda autostrada Gela Siracusa possa partire da Gela. Gela ha bisogno di lavoro e quindi non si capisce perché Gela deve essere l'ultima ruota del carro di questo famoso progetto che già viaggia con qualche anno di ritardo perché se in memoria non mi tradisce questo lavoro o questa opera doveva essere completata nel 1973. È passato qualche anno ma comunque non vogliamo fare polemiche con gli anni e con i trascorsi però chiediamo a viva voce che chi di competenza e chi di competenza significa la deputazione regionale, l'Assemblea regionale siciliana, il presidente della regione Sicilia si adoperino per fare affinché qualche cantiere possa partire da Gela per dare delle risposte a questo nostro territorio oramai martoriato e oramai quasi al collasso e alla crisi economica e poi sotto gli occhi di tutti purtroppo i suicidi e purtroppo la disperazione che si registra in questa nostra città. La petizione continua presso la sede di Fratelli d'Italia in Corso Vittorio Emanuele. Un altro gazebo verrà collocato il 15 maggio a Macchitella dalle 9.30 alle 13. Il nostro obiettivo è quello di portare e fare realizzare infrastrutture nella nostra città oggi veramente abbandonate dalla regione e dall'ANAS. Non si capisce per quale motivo l'autostrada Gela-Siracusa parta soltanto ed esclusivamente da Siracusa e non da Gela. Per questo noi chiediamo che immediatamente i cantiere possono aprirsi nella nostra bellissima città. Ritardi nei pagamenti ed il mancato assorbimento di altri lavoratori rimasti fuori dall'organigramma dell'azienda Tecra che a Gela gestisce il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Sono i due elementi che hanno portato una settantina di lavoratori ad incrociare le braccia. Sit-in questa mattina dinanzi alla sede aziendale sulla statale per Catania. Siamo arretrati con il mese di marzo, venendo a conoscenza che il Comune ha pagato già la fattura di marzo. E dunque adesso tocca alla ditta pagarvi? Sì, certo, questo è una mancanza della ditta perché non abbiamo avuto ancora il pagamento. Ma per quale motivo non vi paga? Questo non lo sappiamo, non abbiamo avuto nessuna notizia in merito a questa situazione. Loro dicono per i debiti fuori bilancio che noi non c'entriamo niente completamente con i debiti fuori bilancio. Noi siamo per i lavori ordinari e non quelli straordinari. Il servizio di raccolta dei rifiuti, nonostante tutto, la scorsa notte è stato garantito. L'abbiamo garantito infatti a Insapena il rappresentante sindacale che ha garantito, è andato nella Tecra per i servizi di emergenza e ci hanno detto che è tutto a posto, ci hanno bisogno di no, siamo qua. Loro stanno coprendo i servizi facendo intervenire persone fuori dal cantiere di Gela. Quindi sono venute persone di quello che abbiamo visto, persone che sono al di fuori proprio totalmente dalla ditta. Non si può andare avanti così, deve avere due mensilità quindi è durato andare avanti. Ma voi avete avuto la possibilità di parlare con i responsabili della Tecra, con il gruppo palestrieri? Eh sì, e ci dicono sempre che quando ci danno i soldi di comune ci puoi pagare. Ci sono arrivate altre persone di fuori quindi stanno facendo il servizio che dobbiamo fare noi. Cioè dalla sera ci siete o non ci siete la stessa cosa? La stessa cosa, quindi vengono sempre loro. Intanto Ignazio Giudice della CGL insiste nel denunciare che alcune vigente si possono evitare. Sarebbe sufficiente che ognuno facesse con solerzia ciò che è giusto fare evitando di colpire l'anello debole e privo di responsabilità e cioè i lavoratori. I lavoratori iscritti alla CGL stanno garantendo il servizio nella convinzione che i problemi si possono risolvere attraverso una adeguata interlocuzione tra amministrazione comunale, società che esegue lo servizio e sindacato dei lavoratori. Il sindacato non ha competenza nel discutere i debiti fuori bilancio e competenza del Consiglio comunale e solo loro, i consiglieri in autonomia, possono e devono decidere se approvarli o meno. La CGL da oggi ha inviato una formale di fida legale alla Tecra ed ha informato la Prefettura della situazione che si vive a Gela, chiesta l'istituzione di un osservatore permanente in grado di vigilare sui diritti dei lavoratori per tutti gli appalti erogati dal Comune di Gela. Salvatore d'Italia, ma rischiava realmente di saltare il campo scout San Giorgio che ogni anno si svolge a Gela? Avendo chiesto l'autorizzazione all'azienda forestale Ufficio di Caltrissetta, l'abbiamo chiesto il 26, da loro ho ricevuto il 29 febbraio, ci telefonano, ma solo dopo varie telefonate che avevamo fatto dove non si trovava mai nessuno, abbiamo mandato un nostro emissario da Caltrissetta e ci telefonano il 21, cioè il giorno prima dell'arrivo dei nostri lì, venerdì 22, per dirci alle 12.15 che l'autorizzazione era pronta e che dovevamo andarla a ritirare a Caltrissetta. A distanza quasi di due mesi dalla vostra richiesta? Quando noi abbiamo detto, ma guardi che noi l'abbiamo mandata per posto, che ho ricevuto il ritorno, anche voi potevate, e poi abbiamo fornito una nostra PEC di sezione, che è come se fosse una posta certificata, ci hanno risposto no, personalmente, e se non vi sbrigate noi chiudiamo perché poi non lavoriamo più venerdì, sabato e domenica e lunedì. Il campo poi si è svolto regolarmente alla Rafforosso, ma avete trovato problemi non indifferenti? Abbiamo trovato una distruzione immensa perché la zona sembra aperta a tutti senza certe volte custodia e quindi c'era da rabbrivedire. Dopodiché ci siamo trovati senza acqua. Ufficiosamente qualche custode ci ha detto che avevano rubato i cavi di rame delle pompe e che non potevano riempire i serbatoi. Però noi abbiamo detto che un ufficio pubblico che si rispetti doveva far arrivare delle autobotti almeno perché lì, oltre agli scout, il 24 e il 25, sono arrivati da tutte le zone circostante, da Gela, da San Michele di Canzaria, da Mazzarino, per passare due giorni di vacanza in mezzo ai boschi. Abbiamo dovuto comprare noi 10.000 litri di acqua per riempire le vasche e far arrivare l'acqua alle fondanelle per noi e per gli altri e soprattutto per i gabinetti perché rischiavamo veramente un default. Abbiamo dovuto noi rastrellare tutte le ramaglie nei boschi sotto gli alberi e portarli vicino ai focolari sia per noi che per la gente che è venuta. Quando lei si riferisce agli enti pubblici il riferimento è agli enti pubblici di Caltanissetta? L'ufficio è quello di Caltanissetta, Regione Siciliana, ufficio domeniale di Caltanissetta e non capiamo il perché. E non è la prima volta, precedentemente abbiamo fatto anche altre richieste di autorizzazione che non ci sono completamente pervenute. Cioè noi siamo andati alla ricerca di un posto alternativo alla vigilia sempre della partenza dei ragazzi e non si può. È un'associazione con centinaia di ragazzi la nostra e i ragazzi non si toccano, i ragazzi hanno bisogno di questi palmoni verdi. No di Caltacqua, l'ordinanza emessa dal sindaco di Gela domenico Mersinese con la quale è stato imposto il divieto di erogazione idrica nelle ore notturne in città. Il gestore del servizio idrico in provincia ha scritto anche al prefetto, al presidente del consiglio comunale all'aspe al lato idrico CL6 che sta l'immediata revoca del provvedimento. Caltacqua ritiene che non ci siano le condizioni per l'emissione di una ordinanza condencibile e urgente. L'ordinanza rappresenterebbe un intervento nel rapporto contrattuale gestore-utente al quale il comune è estraneo. La società evidenzia che la distribuzione nelle ore notturne è quella che garantisce alla luce delle condizioni attuali della rete idrica l'erogazione in tutte le zone della città. Qualora si applicasse l'ordinanza in alcune zone di gela non potrebbe essere garantita la fornitura idrica. Oltre a ciò, le utenze dei quartieri di Macchitella e Manfria serviti dalla rete pubblica dove attualmente la distribuzione è continua 24 ore su 24 verrebbero fortemente penalizzate dalla riduzione delle ore di erogazione. E su questo argomento Caltacqua aveva già fornito delle spiegazioni tecniche in occasione della riunione che si svolta al lato idrico CL6 il 28 gennaio scorso e nella quale erano presenti pure i rappresentanti del comune di Gela. Già dal 2010 con l'ausilio della turnazione nelle ore notturne in alcune zone della città riferisce Caltacqua la situazione legata alla distribuzione idrica è notevolmente migliorata la frequenza dei turni si è ridotta e tutti gli utenti hanno la garanzia di essere riforniti. Ciò si evince anche dal fatto che da quando il sistema di erogazione idrica è stato assestato sulla distribuzione notturna la percentuale di reclami legati alla mancanza di acqua è andato via via scemando in maniera considerevole sino ad essere oggi completamente azzerato. In merito invece al rifornimento con le autobotti Caltacqua dice che l'attivazione della servizio nelle aree non servite dalla rete idrica necessita della sottoscrizione di una specifica convenzione con il comune. Da oltre due settimane l'ente di gestore del servizio idrico ha inoltrato al sindaco di Gela la bozza di convenzione è rimasta però sin qui senza alcun riscontro. Caltacqua ha comunque già predisposto ogni propria azione utile per un rapido avvio del servizio. Incontri, dibatti di trasferti a Palermo a volantinaggio referendum soldi spesi e il sì dei rispettivi consigli comunali Gela, Niscemi Piazza Merina Licodio e Bea si staccano dalle rispettive ex province per approdare alla città metropolitana di Catania e al libero consorzio di Ragusa la volontà popolare è sovrana almeno così dovrebbe essere ed invece non lo è perché ieri alla prima commissione affari istituzionali dell'assemblea regionale siciliana presieduta da Salvatore Cascio si è consumato un delitto perfetto tutto rimane com'è dalla serie abbiamo scherzato i componenti della commissione si tratta di 12 deputati hanno detto no per l'esattezza due si sono espressi in maniera positiva si tratta De Grellini Francesco Cappello e Matteo Mangiacavallo due erano assenti e gli altri otto hanno negato l'emigrazione nell'area metropolitana etnea delle città che ne hanno fatto richiesta due sono del PDR tre del PD uno del PSI uno dell'UDC e uno di Forza Italia la prima commissione sottolinea che referendum consultativi erano stati celebrati in base alla legge che prevedeva sei liberi consorsi comunali e tre città metropolitane la legge però su contestazioni del Consiglio dei Ministri fu cambiata per adeguarsi alla riforma della Rio che prevede invece liberi consorsi comunali al posto delle province minori e le città metropolitane per Palermo Catania e Messina per la prima commissione affari istituzionali il referendum dunque fanno riferimento ad una normativa che è stata già abolita inoltre la stessa commissione ieri ha ritenuto che non bastava la volontà popolare per cambiare provincia ma che serviva anche il quadro completo dei debiti e del personale che andrebbero caricati sulla città metropolitana mettendo a serio rischio l'esistenza di Caltanissetta ed Enna parabola significa che al momento attuale tutto rimane com'è dunque ci chiediamo ritornando al punto di partenza a cosa sono serviti i referendum e le innumerevoli sedute dei vari consigli comunali per assecondare le richieste dei cittadini e le trasferte a Palermo e i soldi spesi rimaniamo senza parole è come se nel calcio a modo di esempio dove aveva vinto tante partite si giungesse alla finale per poi sentirsi dire il regolamento è cambiato è tutto nullo avete giocato solo per passatempo per Maria Ferrera di Reset 4.0 bocciando i disegni di legge presentati dal governo centrale che avevano lo scopo di ridefinire i confini delle province si ammette di conseguenza e senza nessun pudore che la volontà popolare decretata in una calda giornata d'estate era il 13 luglio del 2014 vale assolutamente nulla si tratta di una umidazione per il popolo gelese che tanto ha fatto e che ci ha creduto fino alla fine questa è un'ulteriore occasione mancata per quella politica e per quei parlamentari che dovrebbero avere a cuore il mandato di rappresentanza che gli è stato dato io vorrei tranquillizzare chi ci sta ascoltando e tutti i cittadini ingelesi quello che è successo ieri è di un'infamia che solo poche persone al mondo possono fare e che però molte di queste persone risiedono in Sicilia quello che è successo ieri è la bocciatura del disegno di legge in prima commissione affare istituzionale è già una cosa abominevole di per sé ma non è che si è bocciato il processo di migrazione per Catania il disegno di legge è bocciato ritorna alla presidenza della regione la presidenza della regione cosa può fare prendere atto delle leggi vigenti voglio ricordare che le leggi non sono state modificate quindi sono ancora in vigore prende atto delle leggi 15 e rinvia nuovamente in prima commissione il disegno di legge quindi quello che stanno cercando di fare è solo un rimballo per guadagnare qualche settimana nulla di più ma è un percorso irto di difficoltà quello delle migrazioni di Gela Piazza Alberina e Niscemi a Catania perché eravamo c'eravamo già incontrati in altre circostanze avevamo detto che era tutto a posto invece così non è purtroppo al momento attuale diciamo che il Parlamento regionale su creare sorprese negative non ha rivali al mondo credo che questa fase ci abbia portato come democrazia ai livelli del Burundi e purtroppo dobbiamo prendere atto che questa classe politica e questi parlamentari a Palermo non rappresentano le reali esigenze della Sicilia e forse per questo motivo la Sicilia è ultima in Italia nelle gradatorie di sgruppo ecco lei diceva e sosteneva che ora il tutto viene rimandato alla presidenza della regione siciliana quando si parla di presidenza della regione il riferimento e al governatore il gelese Rosario Crocetta ovviamente tocca al gelese Rosario Crocetta che dovrà nuovamente rinviare il DDL in prima commissione e stavolta ci auguriamo che se ha una maggioranza la mette in campo e faccia votare il DDL favorevolmente perché la situazione diventerà non sta diventando diventerà in ambito nazionale e internazionale molto imbarazzante qui è in gioco non più le scelte di Gela Piazza termine di Niscemi e Lico di Ovea qui è in gioco la democrazia e le regole basilari della democrazia anche perché in tutta la sincerità a cosa sono serviti il referendum e poi i sì dei vari consigli comunali per l'emigrazione se loro vogliono bocciare tutta questa iniziativa anche in questo caso creiamo un precedente in Italia diventerebbe la prima volta in Italia in cui un referendum confermativo non ha seguito questo loro lo sanno e non lo faranno infatti prendono tempo perché potevano inviarla in aula e bocciarla in aula siccome hanno capito che in aula sarebbe passata favorevolmente quindi hanno preferito tornare indietro cercando di guadagnare qualche settimana bene noi siamo pronti siamo organizzati ieri abbiamo avuto una riunione con i comitati di Piazza Armerina e Niscemi abbiamo ragionato serenamente perché siamo più che tranquilli di quello che abbiamo fatto e di quello che i cittadini vogliono e la nostra unica forza è la volontà dei cittadini di voler cambiare i consorsi e questo non è controvertibile da nessuno nemmeno da loro che in questo momento si sentono degli dei dentro il palazzo dei Normanni Dall'attentativo di prima approvazione della legge regionale sui liberi consorsi ad oggi abbiamo assistito ad un ridicolo gioco di forza fra politica regionale e nazionale quest'ultima chiamata in causa ad alcuni sindaci che pretendevano di godere degli stessi poteri dei colleghi del continente ci dispiace osservare che la battaglia fra questi alti rappresentanti del popolo si sia limitata a rettificare e correggere la legge non tanto per migliorare la condizione dei territori e rispettare la volontà popolare ma quanto per accrescere il potere gestionale della politica lo dice il portavoce del comitato Gelensis Populus Liliana Bellardita ricordiamo con estrema amarezza sottolinea che all'inizio questa legge consentiva la creazione di nuovi liberi consorsi con una popolazione di 150.000 abitanti cosa che avrebbe consentito a Gela di poter realizzare il suo sogno di indipendenza poi però i deputati percepito questo pericolo decisero di complicare la strada per il nostro territorio innalzando il limite demografico a 180.000 abitanti è sconcertante osservare come in quel caso la politica trovò un veloce accordo alla luce di queste manovre è lecito chiedersi se il Parlamento parlimitano lavori per gli interessi dei siciliani o no attraverso la posizione presa ieri dalla prima commissione e dai capigruppo che propongono l'adeguamento della riforma delle province alla nazionale della Rio in calza Gelensis Populus ci si china agli irremovibili dettami romani in questo frangente di ulteriori aggiustamenti legislativi proporremo al sindaco di Gela di mettere in campo ogni iniziativa scegliendo in maniera concertata professionalità che possano difendere la volontà popolare della comunità gelese dinanzi a questo ennesimo scempio e alla politica regionale di poter modificare anche il parametro demografico necessario per la formazione di nuovi liberi consorsi auspicando che lo stesso possa essere riportato a 150.000 abitanti così come era nella prima stesura della legge ma già pronostichiamo la risposta è oramai scontato pensare che l'Ars applichi il principio del debole con i forti colleghi romani e forte verso gli inermi cittadini siciliani oramai continua la nota è difficile aspettarsi che questa certezza venga sonoramente smentita e quindi il nostro auspicio è che si faccia giustizia del percorso fatto per un territorio che ha dovuto scegliere per la sua libertà e dignità di aderire alla città metropolitana di Catania ci auguriamo perciò che almeno ora le nostre rappresentanze a qualunque livello difendano la conquista democratica raggiunta dai gelesi dai piazzesi dai nicemesi e dai licodiani Gela è stata scelta dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile tra le poche città isolane in cui si svolge una esercitazione con simulazione di rischio incendi l'attività si è tenuta nel primo istituto comprensivo ad Albani-Roccella e ha concluso il progetto scuola multimediale di protezione civile all'appuntamento di oggi erano presenti tutti gli attori operativi coinvolti polizia municipale carabinieri polizia vigili del fuoco guardia forestale e protezione civile i ragazzi sono stati seguiti nel corso dell'anno per imparare a familiarizzare con tutte le figure istituzionali che sono preposte al soccorso oggi è la giornata conclusiva per cui i ragazzi e quindi tutta la scolaresca avrà la possibilità di conoscere direttamente e quindi concretamente quindi a livello umano perché finora l'hanno fatto a livello teorico con chi li ha seguiti ma adesso avranno modo di conoscere realmente da vicino tutte quelle persone che sono preposte al soccorso e quindi è un modo per far avvicinare i ragazzi a queste figure a non percepirle e a non associare necessariamente al pericolo in senso negativo ma a far capire loro che si tratta di figure che sono dalla nostra parte e che sono dalla parte dei cittadini di sempre e il loro approccio invece come è stato hanno fatto delle domande come hanno accolto ecco il progetto l'iniziativa e la giornata sì i ragazzi hanno accolto benissimo il progetto e devo dire è stata un'occasione come dicevo poco fa per superare le titubanze e la preoccupazione perché quando si parla di croce rossa di protezione civile si pensa subito alle grandi calamità agli eventi e in genere si spera sempre che ciò non accada mai a noi e quindi si pensa alle immagini televisive con grande tristezza questo è stato un modo per dire che comunque gli enti ci sono che il cittadino può rivolgersi a loro sempre e quindi è bene conoscere cosa ruota attorno al mondo dell'aiuto e della protezione oggi è un momento in cui tutti i componenti del sistema di protezione civile partecipano a questa attività il club del soccorso alpino le vigili del fuoco la croce rossa 118 le forze dell'ordine ognuno parteciperà a questo evento facendo vedere come si attiva il proprio sistema come funziona quali sono gli aspetti fondamentali di ogni ente che partecipa a questa manifestazione dopo una fase iniziale dove i vigili del fuoco la forestale e il soccorso alpino fanno vedere alcune simulazioni di soccorso i ragazzi verranno portati nella zona centrale cosiddetta isola dove sono sei gazebi e dove ogni ente per dieci minuti dimostrerà farà vedere praticamente qualcosa di importante ai ragazzi dopo che i ragazzi ruoteranno negli altri gazebi in modo da avere una formazione completa il 2016 l'anno delle olimpiadi in Brasile e Gela oggi in una location unica al mondo nel parco archeologico delle mura Timorontè ha avuto i suoi giochi olimpici grazie all'impegno dell'associazione Green Sport presieduta da Giuseppe Veletti sono stati accolti 1500 piccoli atleti nell'ambito della settima edizione delle mini olimpiadi di Gela città greca i protagonisti sono stati i bambini delle scuole dell'infanzia primaria e secondaria di secondo grado ci sono migliaia e migliaia di bambini ragazzini con le famiglie e sembra veramente incredibile quindi a volte i miracoli si possono avverare i miracoli bisogna anche crederci sussistono perché ci sia la voglia la passione la capacità di crederci fino in fondo e noi ci stiamo credendo ormai da sette anni i gelesi altrettanto lo stanno apprezzando sono 1500 i bambini iscritti 1500 atleti abbiamo avuto atleti anche testimonial che hanno partecipato ai mondiali che andranno alle olimpiadi in Brasile per cui una manifestazione esemplare grazie veramente ai bambini grazie ai genitori grazie ai gelesi che hanno voluto essere qui presenti sicuramente la presenza anche di Antonio Tallarita è arrivato ieri sera da Reggio Emilia per testimoniare appunto questo evento che si sta allargando in tutta la regione Sicilia un campione tra giovani campioni beh il futuro e la purezza di questi ragazzi lascia immaginare sicuramente che usciranno i grandi campioni che emozioni prova a stare oggi nella sua città natale in un luogo che rivive in questa giornata insieme a tanti bambini e a tante famiglie beh io ricordo da bambino venivo a correre qua perché era l'unico posto dove non c'era traffico e quindi ritornare qui dopo quasi 40 anni se non 45 anni è molto emozionante e vedere tanti bambini emoziona ancora molto di più oggi è una bella manifestazione ci sono molti ragazzi sono felice per questo che a Gela ci sia un movimento più allargato l'iniziativa di oggi è stata organizzata grazie al patrocinio del Comune di Gela e alla collaborazione del direttore del Museo Archeologico il Comitato della Croce Rossa e l'Istituto Comprensivo Giovanni Verga e rientra nelle manifestazioni della Primavera dell'Arte appuntamento a questa sera alle 18.30 con l'inaugurazione della mostra d'arte gestita dal Centro di Spiritualità Cristiano Salvatore Zuppardo e il convegno con la professoressa Raffiotta il ritorno degli dei e il ritorno della maschera di Ade quindi appuntamento a stasera e non mancate ci saranno tantissimi altri appuntamenti da seguire con la Primavera dell'Arte seguiteci e scoprirete che tutto questo è fatto per valorizzare Gela siamo anche qui quest'anno per inaugurare questa quarta edizione della Primavera dell'Arte abbiamo i figuranti in abiti greci in questo contesto bellissimo che merita di essere valorizzato grazie a tutti Grazie a tutti.